Signori, buon anno, in ritardo, con il pigiama, in camera, la prima, si guarda così, si ricomincia con questa grandissima vittoria all'Inter, batte il Napoli 1-0, il gol del professore Edin Dzeko. Non sento più, come dite? Non sento più i detrattori, i detrattori di Edin Dzeko. Ma come mai? Vogliamo continuare a buttare, a criticare, a buttare un po' di sempre critiche addosso al professore Edin Dzeko che decide questo big match, il secondo vinto dall'Inter quest'anno. Non potevamo incominciare l'anno in una maniera migliore di così. Sono euforico, Napoli, bisogna dirlo, sotto tono sicuramente rispetto a come aveva chiuso il 2022. Qualche segnale era arrivato dalle amichevoli che di solito lasciano il tempo che trovano, però questo è stato come un ripartire, è stato come un precampionato, è stato come un nuovo inizio e ce l'eravamo detto tante volte, più e più volte. E molti prendevano sotto gamba questa cosa qua, perché poteva essere un'incognita e invece è molto probabile che si riveli così, perché questa sera oggettivamente ho visto un Inter diversa sotto tanti aspetti rispetto all'anno scorso. Mi ha sorpreso anche in Zaki con dei cambi azzeccatissimi, una formazione che, a parte Darmian, non mi ha lasciato perplesso, ma Darmian non mi lascia perplesso nella scelta. Darmian mi lascia perplesso perché per il mondiale che ha fatto Dumfries mi sarei aspettato un Dumfries che partì a titolare. Lautaro è tornato da poco, anche se ha ridotto le vacanze comunque per aggregarsi prima alla squadra e gli ne va dato atto, gli va dato onore di questo, come hanno fatto tanti dal ritorno al mondiale appunto. Sono gasato a bestia, anche se non sembra, perché comunque è un ripartire anche per me. Ho aspettato tutta la sosta per ripartire con i video perché sì, potevo fare qualcosa anche di sarcastico, soprattutto su TikTok per gli amici che insomma sanno che ci sono queste cose molto satiriche sul canale, però la vicenda Juve, il mondiale qui e su e giù. Ma ho preferito aspettare il rientro del campionato, poi magari domani parliamo anche un po' di quello che è stato il mondiale e possiamo dare anche dei voti più freddo a questa partita. Dicevo, ho visto delle cose che oggettivamente non ho visto l'anno scorso con delle scelte più lucide in certi passaggi, delle scelte più ponderate da parte di Inzaghi, tante cose ancora da sistemare. Una difesa più accorta, siamo stati molto, secondo me, più corti nell'aspettare l'avversario, nell'aspettare il Napoli, perché comunque adesso c'è Lukaku. È un'arma in più, sicuramente non è in condizione rispetto a quello che era una volta, un anno e mezzo fa, il giocatore devastante, straripante, che aveva deciso, aveva portato lo scudetto a casa neroazzurra. Però, appunto, stiamo più corti per approfittare delle sue ripartenze, secondo me con Dzeko si può sposare bene, è una soluzione che si può rivedere, anche se adesso, ovviamente, con un Lautaro campione del mondo, il ritorno di Lukaku, la coppia deve essere e sarà la Lula. Però, signori, Edin Dzeko è un campione con la C maiuscola. 37, se non erro quest'anno, l'ho sempre detto, porta avanti la baracca da solo. Io non so più che parole spendere per questo giocatore, diciamo che si è anche visto poco, si è visto molto più Lukaku sotto il profilo dell'aiuto, dell'accorciare, dell'aiutare la manovra. Ma poi i grandi giocatori sono così, non si fanno vedere per un tot e poi saltano fuori. Con delle giocate, questo è stato un colpo di testa eccezionale, certamente c'è il grande assist di Darmian, che sentivo anche prima della partita, mi stavo sentendo con un mio amico, Diceva, io avrei messo Gosens, sì, Gosens è stato provato anche delle amichevoli e avrà più spazio perché, secondo me, l'ho visto bene questa sera e Gosens potrebbe tornare sui suoi livelli e se così fosse sarebbe una grandissima arma in più anche lui. Grandissimo assist di Di Marco, dietro obiettivamente questa sera abbiamo rischiato poco, a parte la grande occasione di Raspadori nel finale, c'è stata anche un'occasione in cui Rosimena è stato chiuso, la grande che poteva andare al tiro da Cialanogro, poi non mi ricordo, le grandi occasioni del Napoli, un tiro di Zelinsky andato fuori, tirato malissimo, noi ci siamo cagati tantissimi gol e qui questa cosa mi ha riportato alla vecchia Inter, alla vecchia, quella di un mese e mezzo fa, dove con tante occasioni sprecate poi lo prendevamo nel proso, lo prendevamo in quel posto, stasera così non è stato, diciamo che non può essere sempre una sentenza matematica, non può essere una certezza, e questo è stato, va tutto a nostro favore. Adesso le cose si rifanno interessanti, le cose si rifanno interessanti perché il Minan va a meno 5, noi andiamo a meno 8 che sono ancora uno sproposito di punti, la Juve che è a meno 2 dal Minan e quindi va a meno 7 dal Napoli, è chiaro che il Napoli era conscio di venire stasera a San Siro pensando che anche con un pareggio potevano comunque andare bene le cose, probabilmente non aveva preventivato una sconfitta, però come ho detto prima era un'incognita e quindi può darsi che nella testa più che altro dei giocatori sta cosa si potesse anche palesare. Poi se devo dare delle opinioni singoli, anche Mkhitaryan comunque nel primo tempo non mi aveva convinto, poi dopo nel secondo ha fatto quella grande apertura per Di Marco, grandissima apertura che comunque gli vale la sufficienza piena, dietro ho rivisto un grande bastoni, Skriniar nonostante le voci, stasera imperiale, imperioso, Acerbi, sto per dire De Vrij perché è l'abitudine dei vecchi tempi, Acerbi bene, Acerbi bene, non sta facendo rimpiangere, ma da un po' anche, non sta facendo rimpiangere De Vrij o Nana, ripeto poi non ha corso grandi pericoli, Di Marco, grande assist ma grande partita in generale, Darmian grande partita di contenimento, Barella? No, Barella in realtà alla fine è bene, sotto il punto di vista del sacrificio anche lui dovrà ritornare in condizione sicuramente, per rivedere anche delle grandi giochiate, per rivedere il vero Barella, Lukaku deve rientrare in condizione che lui non l'è mai stato, perché comunque dopo quei infortuni che ha avuto, la ricaduta, il mondiale poi è uscito come è uscito, poi la partita dove si è mangiato una miriede di gol, stasera ce ne siamo mangiati una caterva e anche lui ha fatto la sua parte, però diciamo che, insomma, è stato partecipato alla manovra, sufficienza piena se la merita, anche lui avrà modo di riscattarsi, Dzeko, vabbè Dzeko, Dzeko se non gli do 8, 8 e mezzo stasera, cioè, non glielo do più, imperiale anche lui è Dzeko, il professore esente sempre da critiche e stasera lo ha dimostrato. Poi quelli che sono entrati, Gossens comunque si bene, mi ricordo ho solito di Ciala, la prestazione di Ciala, così così, anche lui sufficienza, non ha fatto chissà che cosa, Gagliardini senza voto probabilmente, Correio, fino a una certa stavo pensando di fare la petizione con il nuovo anno appunto per mandarlo via, ma stasera tutto sommato ha guadagnato anche un'ammunizione lì su, ha fatto ammonire Kim, mi pare, ha fatto qualche stersata, molte giocate che sembrava che dovessero venirgli per grazia divina, no, perché gli fossero concesse, gli fossero dovute con quei tocchi leziosi, mi fermo qui, mi fermo qui perché se si limitava a quello la petizione la cominciavo a stilare adesso, e quindi signori è così, allora, adesso, questa è una vittoria importantissima, ti rientra un giocatore come Lautaro, che anche lui è entrato bene, campione del mondo, accorci, è tutto da riscrivere, c'è anche il mercato di mezzo che non porterà chissà che cosa, non è tempo adesso di star lì a protestare il cinese, vai via, ne parliamo alla fine, ne parliamo alla fine del mercato perché sotto quel punto di vista, appunto domani magari ne parliamo meglio, parlerò anche di quello, vi dirò le mie sensazioni dei partenti, della situazione societaria, e quindi adesso, questo era un grande stimolo, adesso è un grande stimolo, sempre forza di niente signori, iscrivetevi, commentate, dite la vostra e come sempre, amala.